Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Il fatto che Ibrahim Celicola abbia lasciato un emoji dal cuore nel suo ultimo post con Akalai è stato sufficiente ad alimentare le voci. Akalai, alle voci d'amore sul collega dello scorso agosto, Ibrahim è un mio caro amico, amico mio. Anche la sua ex moglie Mire è mia amica. Ora sono confuso su cosa dire. Un uomo non può essere amico di una donna? Sono triste per queste notizie, ha rimproverato. Anche se dicono sempre che sono due buoni amici, c'è sempre un punto interrogativo. Dopo le continue voci tra lui e Birce Akalai. Condivisione piena d'amore dalla coppia Ibrahim Celicol, Natali Yarkan. L'attrice Ibrahim Celicol, che poco tempo fa si è innamorata di Natali Yarkan. Ha presentato la posa della felicità con il suo amante e i suoi seguaci. Ibrahim Celicol, che ha concluso il suo matrimonio di 5 anni con Mire Mutlu, con cui si è sposato nel 2017, lo scorso anno. Aveva perso il suo cuore per Natali Yarkan. La coppia Celicol e Yarkan, che ha vissuto il loro amore lontano dagli occhi, ha infranto la regola. La famosa attrice ha condiviso la cornice d'amore con il suo amante dal suo account sui social media. La condivisione romantica di Celicol, in posa mentre baciava il suo amante, ha attirato grande attenzione. In precedenza, Montenegro, Chastity, Black and White Love, The House You Are Born Is Your Destiny, c'era una volta a Kukurova. Ibrahim Celicol, che interpreta un ruolo in serie tv come Bird Flight, ha un figlio di nome Ali dal suo matrimonio con Mutlu. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.